Terribile incidente mortale a Ranica, le 15.30 di sabato 31 luglio, Daniele Gandossi, un giovane di 25 anni, è morto sul colpo dopo essersi scontrato violentemente con un'auto. Il sinistro ha visto coinvolte anche una seconda vettura e uno scooter. Lo schianto è avvenuto sulla vecchia provinciale per la valle seriana in via Marconi. Gandossi era in sella alla sua Ducati Rossa quando ha perso il controllo della moto finendo nella corsia opposta dove transitava una Toyota Yaris. Secondo le prime informazioni il giovane potrebbe aver sbandato per evitare un'auto che stava svoltando nel piazzale.